ciao a tutti ben trovati nel mondo di mario 3d world siamo nel mondo 4d5 cittadella degli spunti io non l'ho ancora fatto quindi lo vedo per la prima volta con voi quindi diciamo che ogni novità la andiamo a vedere insieme in verità vorrei dirvi che ho avuto dei problemi con il caricamento dei video non si sa il motivo quindi ho trattato anche di miei amici e mi hanno detto che ci sono stati dei problemi in questi giorni con youtube quindi anche teneva diciamo così un profilo attivo da diverso tempo hanno avuto problemi a caricare i video non so il motivo io li ho tutti bloccati al 100% in caricamento ma non riesco ancora diciamo così visualizzare quindi non lo so in verità neanche il motivo addirittura ci va di qua bene ok quindi dopo dobbiamo andare di là infatti la freccia poi lo indicavo comunque andiamo a vedere qua prendere la stella quindi c'è ancora uno uno due beh direi che sono stato bravino bravino bene bene ora andiamo a non fare cavolate qua ecco motivo del titolo degli punzi ecco beh questo me lo sono anche meritato questo che cavolo fa no no vabbè da qua non ci vado a nessuna parte ci siamo persi diciamo così la stella è in mezzo però stavo finendo giù vabbè ok diciamo che questo mondo qua è andato anche tutto sommato abbastanza bene non capisco dove sia l'altra stella vabbè 2 di 3 addirittura ci va a aprire già quel mondo lì vediamo cosa c'è di qua ok vediamo cosa c'è andiamo a vedere mi sembra tutto troppo semplice vediamo cosa fa imboscata di fuoco bene bene no no vabbè no vabbè quindi di là dove andiamo a finire quindi di là dove andiamo a finire ok ok qui ci sono un po' di stelle casa mistero corsa contro il tempo vabbè 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 c'è sono caduto miserabilmente perché direi che la cosa è abbastanza difficoltosa non è vero di nuovo Ok, mi hanno preso a travi. Oh, c'è 4x4, il nostro Mario. Ok, ce ne mancano 4. Cioè, se dico al pelo a pelo, qui è stato tremendo. Non ci credo, no. Cosa mi fai rifare? Spero le ultime due, sennò qua c'è da impassare. Non ci credo, non ci credo. Non ci credo, non ci credo. Non ci credo, non ci credo. Ok. Questo va fatto senza pensarci, come quello che io sono caduto, perché... Ok, questo è facile. Questo no, non è facile. Assolutamente. Questo si prende al pelo, almeno io non sono stato capace di fare meglio. Questo è facile, si va dritti, bene. Vabbè, direi che io mi accontento, perché non voglio andare avanti, voglio finire il gioco. Ok, con questo video direi che ci possiamo salutare. Nel prossimo video ci vediamo nel mondo di... Adesso ci andiamo di... Il cattivone di turno. Andiamo a vedere. Vediamo quanto stelle occorrono. 50 li abbiamo. Ok, ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ciao, ciao. Finale mondo di quattro.